Abbiamo annunciato, abbiamo detto, abbiamo spiegato, abbiamo motivato le ragioni di questo emendamento. È un emendamento che serve a costruire una proroga di qualche mese, ci auguriamo, per costruire un provvedimento e una legge che non sia ispirata al più bieco furore ideologico contro il mondo del commercio e che aiuti al contempo un grave problema come quello delle ludopatie che non siamo noi a sottovalutare. Quello che stiamo cercando di fare è di attivare un tavolo e una serie di proposte serie che coinvolgano le categorie, che ci aiuti a uscire da questo problema, senza per questo martoriare e costruire un nuovo elemento di disoccupazione in questa regione che costerebbe almeno 3.000 nuovi disoccupati, facendo chiudere una serie di esercizi commerciali che già sono stati martoriati. Sono temi seri, sono temi sensibili, su cui la speculazione politica non è ammessa, su cui bisogna sedersi intorno a un tavolo senza furore ideologico ma costruendo un percorso che tuteli l'occupazione, il commercio e al contempo ci aiuti a risolvere un problema che, se questa legge entrasse in vigore, lungi dall'essere risolto in assenza di un quadro normativo nazionale, semplicemente produrrebbe nuova disoccupazione e nuova povertà. Siederemo intorno a un tavolo le associazioni del commercio, le associazioni che si occupano di questo problema, i medici, gli specialisti e cercheremo di creare quel percorso che la sinistra in dieci anni non è riuscita a costruire, ovvero incentivi fiscali che devono arrivare dai comuni e devono trovarli nel loro bilancio per aiutare i commercianti che escono da questo modello di business, cure serie, cosa che il nostro assessore Viale sta già sperimentando e finanziando da almeno un anno, da quando è in carica. Quindi è un percorso, prima questo percorso dare dei risultati, più saremo felici tutti.